ciao amici e benvenuti a un altro video del vostro rockwain benvenuti a un'altra mia recensione e come vedete oggi la recensione che farò sarà una recensione un po dolce infatti vi recensirò queste due bellissime uova appunto per festeggiare la pasqua e quindi volevo approfittare di questa recensione per fare gli auguri a tutti i miei iscritti di una buona e serena pasqua auguro una santa pasqua a tutti i miei iscritti e quindi per fare un piccolo video speciale per la pasqua non c'è niente di 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 più che recensire due bellissime uova della ferrero quindi parliamo di kinder sorpresa esattamente vi recensirò questo bellissimo uovo di pasqua esattamente kinder gran sorpresa gigante per lui dove si trovano le bellissime sorprese di batman e vi recensirò anche questo maxi kinder sorpresa che come vedete è come il kinder sorpresa classico soltanto che è molto molto più grande ecco perché si chiama maxi appunto dove già possiamo notare le sorpresa le sorprese che si che che si celano infatti possiamo trovare qui le sorprese di doraemon e quindi iniziamo lo scartaccio allora con quale con quale iniziamo 12 12 12 quale volete che recensisco per prima vediamo vediamo iniziamo con batman dai vediamo che cosa troviamo prima da batman facciamo tutto live sinceramente le sorprese di qua di batman so che se ne so che si trovano quattro sorprese diverse che tra l'altro la carta è molto bella dico la verità mi piace tanto questo design davvero davvero bello allora so che si trovano quattro quattro sorprese diverse però sinceramente soltanto due mi piacerebbe mi piacciono le altre due sinceramente ne posso fare a meno quelle che mi piacciono sono so che si trova un modellino della batmobile stile film di tim barton e si trova anche un personaggio di batman su una specie di motoscafo sinceramente mi interessano solo quei due gli altri sinceramente non mi interessano quindi speriamo di trovare di trovare almeno uno di questi due che mi piacciono allora 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 qua abbiamo già l'uovo intanto apriamo l'ovetto ok tra l'altro non c'è bisogno di dirlo il cioccolato kinder è qualcosa di meraviglioso quindi è la mia consumazione guardate qua che bello che colata che c'è e qua c'è la sorpresa quindi sembra molto leggero il contenuto ci sarà sicuro qualche macchinina allora vediamo che cosa trovo che cosa trovo che cosa trovo eeeh mamma mia che bella la macchina quella stile di tim barton la batmobile bellissima meno male io devo dire vi devo dire la verità io con le sorprese kinder ho un po' di culo veramente veramente guardate qua c'è il missile allora naturalmente c'è all'interno una molla dove appunto questo missile diventa appunto a molla ecco qua perfetto ecco qua guardiamolo un po' più da vicino guardate com'è bella il design è proprio quello appunto della batmobile dei film di tim barton con la regia di tim barton guardate che bella che spettacolo l'unica cosa che un poco guasta è appunto questa questo bottoncino blu che naturalmente va in contrasto con il nero totale della macchina però vabbè trattandosi di un di una sorpresina di un giocattolino appunto da ovetti kinder diciamo che va bene veramente veramente grazioso sono contento di questa sorpresa davvero davvero devo dire che appunto il prezzo è eccessivo di queste uove giusto io lo devo dire sinceramente 20 euro per un nuovo kinder anche se si trovano sorprese molto belle molto grandi però sinceramente il prezzo è eccessivo davvero posso 15 euro sinceramente è un prezzo molto più giusto dico la verità però vabbè sono venduto a 20 euro poi si sa che mettendoci sorprese di batman la kinder vende di più quindi anzi io ho notato proprio questo consiglio se qualcuno della kinder guarderà questo mio video credo che sarà molto difficile ma comunque io ci tento se qualcuno della kinder guarda questo video io gli consiglierei di mettere più sorprese di batman perché la vendita è più sicura non che altre vendano di meno però diciamo che batman attira e attira di molto allora come vi avevo anticipato si trovano 4 sorprese diverse come vedete si trova questa batmobile che sinceramente non mi piace granché anche se sto notando che diventa tipo una specie di jet una specie di aereo poi si trova appunto questo modello stile batmobile di Tim Burton questo batman con lo scafo che mi piacerebbe anche avere e questo jet questo bat jet questo batwing diciamo qua appunto ci sono le istruzioni appunto come si fa molto semplice all'interno si trovano anche queste sagome dunque si trovano queste tre sagome del pinguino joker e two face due facce che servono appunto da bersagli per il missile appunto della batmobile quindi devo dire davvero davvero carini ma non è finita vediamo che cosa troviamo nell'ovetto di 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 nell'ovetto delle sorpresine di Doraemon vediamo 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 allora 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 Doraemon mi ricordo la 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 sigla della Cristina e allora vediamo che sorpresina ci trovo apriamo anche questo ovetto non c'è bisogno da dirlo cioccolato meraviglioso quindi l'ospedale è nelle vicinanze allora vediamo che cosa ci trovo che cosa ci trovo wow vediamo che modello è di Doraemon carino cos'è mmm Doraemon pittore dovrebbe essere ah sì è una specie di pennellino ho capito pittore vediamo 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 mmm lo immaginavo quindi questi sono dei pennell dei dei colori reali dove appunto possiamo usare il nostro Doraemon Doraemon appunto come eh pennellino appunto usare i colori e colorare e quindi amici questo era il mio video dedicato alla Santa Pasqua fatemi sapere che cosa ne pensate di queste sorpresine che ho trovato appunto nelle uova eh Kinder appunto della della Ferrero fatemelo sapere con un messaggio scritto con un mi piace al prossimo video e come dico sempre ma che cosa è è Grazie a tutti.